Sabato 22 aprile, chiesa di San Giovanni Rotondo, il padre Pio. Sì, è rimasto al nuvolo, vabbè, fatti il cittadino. Ma da noi si scivola qua, trasformare i sani in invalidi. Attenzione che si scivola da matti qui. Sentite quanto si scivola? Si scivola, ecco. Utilizzo lo stesso passo che utilizzavo quando andavo la mattina a scuola, che aveva appena ghiacciato. Perchè quella ragazza aveva tipo tre carte d'identità dentro la borsa? Ci sono cascate tre carte d'identità, sì. Sì, ero che ne ho iniziata poi. Sì, adesso dov' vedi una cubana. Sì, è venuto in un tempo. La città, è il giro un tempo. Sì, ero una macchina da quattro Scopo è il tempo. A me ricordi qui stiamo in un tempo. Se arriva a sessorativo. La città, io vrei sai stannonu,ossi. C'è l'al Sav Battaglia e ilimpianto è l'alunica. Grazie a tutti. 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 , , , , ,